la situazione psicologica ed emotiva dei profughi ucraini che lasciano il loro paese per andare altrove noi la raccontiamo ma ovviamente viverla è un'altra storia possiamo soltanto immaginare come si sentono possiamo soltanto provare ad empatizzare con loro dai racconti che arrivano loro vivono la fuga come un momento liberatorio ma razionalizzano soltanto in un secondo momento la situazione difficile in cui si trovano forse vale lo stesso per tutte le altre situazioni complesse che noi ci troviamo ad attraversare cioè quelle traumatiche molto dure magari lì per lì non ci si rende conto della difficoltà della situazione in cui ci si trova per razionalizzarla in un secondo momento chiediamo a Stefano Callipo psicoterapeuta e presidente dell'osservatorio violenza e suicidio se vale lo stesso per tutte le situazioni difficili presidente al momento in cui noi viviamo buongiorno ben trovato al momento in cui noi viviamo una situazione complessa in questo caso stiamo parlando di una guerra di un conflitto ma potrebbe essere un terremoto una situazione d'emergenza non ci rendiamo conto al momento in cui la viviamo della gravità della situazione elaboriamo e razionalizziamo soltanto in un secondo momento è sempre così? Allora noi generalmente tutto ciò che ricostruisce o meglio riconducibile a un trauma delle persone che vivono un'esperienza del genere e purtroppo vivono quella condizione che viene definita post traumatico da stress il che significa che una delle prime fasi è proprio quella dello sciocco in cui il soggetto non si rende conto di quello che sta vivendo e quindi questa fase è caratterizzata da diversi stati emotigeni come la tristezza, la rabbia quella che poi viene definita tra l'altro la classica sindrome del sopravvissuto ma anche dei sensi di colpa per gli altri parenti che magari non sono riusciti a ricongiungersi. Poi ovviamente abbiamo la seconda fase che è quella fase cosiddetta della consapevolezza dove il soggetto in una seconda fase si rende conto di quello che sta accadendo e qui questa fase è molto delicata perché è meno protettiva della prima quindi in questa fase possono emergere degli incubi, dei flashback e tutte quelle situazioni che tra l'altro con pensieri intrusivi, cioè un tipo di pensieri che non si riescono a scacciare, che possono rendere la vita molto difficile. Poi è evidente ci sono altre fasi, la nostra mente è meravigliosa, ci protegge da un lato e cerca di elaborare dall'altro. Poi c'è la fase di coping, quella fase in cui il soggetto poi cerca di riprendere un equilibrio non soltanto sociale, questa è una fase molto delicata perché il soggetto manifesta tutte quelle risorse che sono necessarie per poter sopravvivere. L'ultima fase, una fase che non tutti raggiungono purtroppo, la fase dell'accettazione, c'è la fase dell'accettazione della risoluzione, questa è la fase in cui il soggetto avrà accettato la condizione che ha vissuto ed è pronta per rimettersi in gioco, non tutti raggiungono purtroppo questa fase. Sono fasi che richiedono tempo comunque Presidente Callipo, scusa Tommaso che ho interrotto qualche secondo. Ribadisco, noi stiamo commentando la fuga degli ucraini dal loro paese per cercare fortuna e riparo, protezione altrove, ma in generale in situazioni difficili, le fasi sono comunque quelle che noi abbiamo citato poco fa, ma richiedono tempo perché vengano elaborate, mi sembra Presidente. Assolutamente sì, teniamo conto che persone che perdono una casa sono persone che perdono il riferimento esistenziale, quindi tutto quello che rappresenta la nostra mente, quindi il punto di riferimento più importante. Noi dobbiamo, in questo senso mi sento di dirlo, distinguere due aspetti importanti, dobbiamo distinguere tra accoglienza e ospitalità, perché spesso noi eronamente pensiamo che basta offrire un pasto caldo, basta offrire una stanza per poter mettere il soggetto in una condizione di riuscita e di equilibrio, assolutamente no, perché serve soprattutto la competenza di persone che siano preparate ad accoglierli e in questo senso bisogna fare ancora tanto. Dottor Callipo, un tema legato alle fasi che ha tracciato, in particolare la fase dell'accettazione, un altro tema è quello legato al futuro che si può avere in una casa lontana, e è un tema che torna molto spesso all'interno della nostra dialettica, nel senso in questo momento guardando anche un po' negli occhi i rifugiati ucraini si scorge un assenteismo, ma anche una grande paura di quello che sarà il loro futuro. Come aiutare queste persone nel creare un futuro diverso da quello che avevano già progettato? Vedete, per poter far questo bisogna entrare e capire bene, entrare nella mente e capire bene alcuni meccanismi, appunto nella nostra mente. Vede, dietro nel disturbo post-traumatico del stress c'è una parola posto, dietro quel posto c'è tutta la sofferenza dell'individuo, i traumi passati e la sofferenza del presente. Cosa significa questo? Che spesso le persone che fuggono dall'Ucraina possono non manifestare la sofferenza di un dolore acuto, ma una sofferenza di un dolore lento e protratto nel tempo, il cosiddetto dolore invisibile. Ecco perché l'importanza di mettere questi soggetti in contatto con persone che abbiano una necessaria preparazione è fondamentale, perché loro hanno, non soltanto in quei d'ora, ma anche nelle fasi successive, bisogno proprio di un supporto specifico proprio in questo senso. Presidente Callipo, la storia che noi stiamo raccontando ci porta a dedurre che certi disturbi psicologici, l'ansia, la depressione non sono genetici, ma sono acquisiti rispetto a situazioni difficili. Raccontiamo la condizione degli ucraini, si soffre e si sta male, non sempre quando si ha un problema mentale, si ha un problema genetico, Presidente. Assolutamente sì, noi dobbiamo anche evitare le cosiddette etichette, cioè il fatto che una persona poi manifesti delle sintomatologie reattive a una condizione di trauma non significa che sia una persona ammalata di mente o che abbia ereditato geneticamente una forma di malessere. Assolutamente no, spesso possono essere dei sintomi anche transitori, cioè soggetti possono recuperare, o meglio raggiungere un buon equilibrio. È chiaro che la nostra mente mantiene sempre delle cicatrici al pari dei nostri organi e queste piccole cicatrici traumatiche a volte possono rimergere, ma ciò non significa che il soggetto non possa raggiungere un equilibrio più che soddisfacente. Teniamo conto che l'etichettare le persone come persone malate o persone pericolose, io purtroppo ho letto degli articoli che poco mi sono piaciuti, è fondamentale perché sono persone che vivono una condizione di sofferenza e talvolta questa sofferenza, nonostante qualche piccola cicatrice che può rimanere, è assolutamente transitori. Anzi al contrario, riconoscere un momento di sofferenza e riconoscere di aver bisogno di aiuto forse anche sintomo di forza Presidente Callipo, visto che abbiamo imparato tutti che il dolore fa parte della vita, quindi un momento doloroso va riconosciuto, elaborato e superato e chi ha la forza di farlo forse possiamo dire che è più vincente di chi fa finta di niente, a meno che non si vive in una campana di vetro dove niente può succedere. Ritorniamo alla nostra notizia che è la fuga dall'Ucraina, molte delle persone che fuggono lo fanno con gli animali, lo fanno con in braccio un qualche oggetto caro che hanno trattenuto e che rappresenta un riferimento per loro, è come se portassero con sé un pezzo della loro casa, del loro cuore Presidente Callipo? Assolutamente sì, con quell'oggetto che alcuni analisti potrebbero definire anche oggetto transizionale, però quell'oggetto in realtà rappresenta proprio tutto quello che tra l'altro appartiene a questa cosiddetta sindrome nostalgica, cioè il riferimento, tutta la loro storia, la loro vita e tutto quello che rappresenta si portano dietro con un piccolo oggetto, ma non soltanto con un animale, talvolta anche con oggetti piccolissimi. Ho visto delle scene dove i bambini portavano addirittura dei sassi, piccoli sassi che mettevano in tasca, ecco quel sasso piccolo dal peso di pochi grammi rappresenta tutta una vita, rappresenta momenti in cui si trova a giocare probabilmente da quelle parti, rappresenta anche l'affetto dei propri genitori, quel sasso può essere per il bambino in alcuni momenti persino fonte di affetto. E allora noi introduciamo un altro ospite, Federico Fossi per UNHCR, ci parlerà delle attività che si stanno facendo per assistere i rifugiati. Sì, dell'arrivo dei rifugiati dall'Ucraina. Federico Fossi, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione dei profughi? Chi sta arrivando? In che condizioni arrivano? Ci dica un po' come sta la situazione, come stanno le cose. Sì, come abbiamo più volte ribadito noi di UNHCR, questa è la crisi di rifugiati che cresce più velocemente in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi il ritmo di persone che fuggono dall'Ucraina è altissimo. Dal 24 febbraio al 26 marzo, quindi in poco più di un mese sono oltre 3 milioni e 800 mila le persone che sono fuggite nei paesi vicini in cerca di sicurezza. Allo stesso tempo stimiamo in oltre 6 milioni e mezzo le persone sfollate internamente all'Ucraina, quindi persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case per mettersi a riparo, ma che non sono riusciti a uscire dal paese. Sono le persone, i rifugiati che fuggono nei paesi limitrofi, sono principalmente donne e bambini nel 90% dei casi, persone anziane, disabili e ovviamente sono persone che nel giro di poche ore, di pochi giorni hanno dovuto abbandonare tutto quello che hanno e sono persone ovviamente traumatizzate, stanche per aver aspettato ore al freddo alle frontiere in attesa di attraversare e molto preoccupate per la sorte ovviamente dei mariti, dei padri e dei figli che sono dovuti rimanere in Ucraina a combattere. Questa situazione coinvolge un settore legato a un tema di vulnerabilità, lei ha parlato però appunto di uomini rimasti a combattere, la maggior parte dei rifugiati sono però appunto donne e bambini. Che opere di assistenza avete attivato nei loro confronti? Sì, allora grazie per la domanda, è molto importante sottolineare come ci siano dei rischi in tutte le situazioni diciamo di crisi di rifugiati, particolarmente in questo caso proprio perché si tratta di categorie particolarmente vulnerabili, donne con bambini, le donne ovviamente sono a rischio di violenza, violenza di genere, i bambini sono a rischio di abusi soprattutto in tutti i casi in cui i bambini viaggiano da soli e ci sono purtroppo tanti casi di bambini che attraversano le frontiere soli, separati dalle proprie famiglie e in questo caso noi oltre diciamo all'assistenza di base, l'assistenza umanitaria di base, quindi la fornitura, il sostegno ai governi dei paesi limitrofi fornendo articoli di prima necessità, riparo, medicine, c'è diciamo tutta un'attività molto importante proprio di protezione di queste categorie, stiamo installando questi blue dots, punti blu dei luoghi dove vengono concentrate tutte le attività proprio a tutela soprattutto delle persone più vulnerabili da parte di UNHCR e di tutti gli altri attori che sono sul posto proprio per provvedere a queste categorie con supporto psicosociale e per quanto riguarda i minori tutte le attività che hanno come fine ultimo quello del rintraccio appunto delle famiglie di origine. Federico Fossi, noi stiamo commentando la condizione psicologica dei profughi, quindi di coloro che lasciano l'Ucraina per spostarsi, andare altrove, stiamo dicendo che non hanno idea della difficoltà in cui l'Ucraina si trova, razionalizzano soltanto in un secondo momento la situazione difficile, da un punto di vista emotivo che cosa ci può dire delle persone che arrivano e che le capita di incontrare? Diciamo che in tutte le crisi di rifugiati, perché questa è una cosa anche che noi stiamo molto sottolineando, è molto importante, la crisi ucraina è sicuramente esplosiva e devastante, ma non dimentichiamoci di tutte le altre crisi di rifugiati e conflitti che purtroppo non accennano a trovare soluzione dall'Afghanistan allo Yemen a tanti altri. Ecco, in tutte queste situazioni i rifugiati che varcano il confine hanno come obiettivo principale quello di tornare alle proprie case il prima possibile, quindi si fermano molto spesso nei paesi rimitrofi sperando che le condizioni di sicurezza gli permettano di tornare il prima possibile perché sono persone, ripeto, che hanno veramente dovuto abbandonare qualsiasi cosa, in molti casi le persone care, come minimo le abitazioni, tutti gli averi, tutte le cose che possedevano, il lavoro, la scuola, è una condizione di limbo che ovviamente è molto pesante, nell'immediato c'è il sollievo dell'aver trovato riparo e sicurezza dai missili, dai bombardamenti, ma poi subentra appunto una fase in cui è molto importante il sostegno psicologico ed è molto importante mettere queste persone nella condizione di poter ricominciare il prima possibile a trovare una normalità, quindi una scuola per i bambini e prospettive di integrazione laddove le persone non abbiano la possibilità di tornare nel loro paese in tempi rapidi. Presidente Gallipo, io a questo punto mi accoderei alle parole di Fossi sul senso di recuperare una normalità alla scuola, ma in particolare, Presidente Gallipo, un senso di famiglia che sarà difficile ritrovare perché il distacco tra marito e moglie, il distacco tra figlio e marito, insomma, come aiutare le persone in questi termini? Beh, qui bisogna ricreare ovviamente, come lei ha giustamente detto, quelle condizioni proprio di equilibrio e di normalità. Queste sono condizioni che ovviamente non possono essere raggiunte immediatamente, però ci si può certamente lavorare appunto attraverso dei processi che sono specifici, soprattutto anche per i soggetti in età evolutiva, quindi parliamo di bambini, perché, vede, il trauma di un bambino è un trauma diverso nella sua elaborazione rispetto a un adulto. Un bambino ha bisogno di riferimenti fissi, fermi e stabili, quindi la percezione della transitorietà, la percezione di quello che mi accadrà all'incertezza in futuro può essere più devastante rispetto a un adulto. Quindi creare proprio quelle condizioni di base dove il bambino può essere inserito quanto prima possibile in una condizione in normalità, quindi come una scuola, come una famiglia e con degli orari, con degli impegni e tutto quello che può essere riconducibile alla normalità che ha vissuto prima di questa esperienza traumatica. Io con l'occasione, con l'occasione per dire che noi abbiamo sia come osservatore dove si è uscito attivato comunque le linee di aiuto per l'emergenza ucraina ed è stata anche da Sanimpresa, la casa di assistenza sanitaria integrativa, in collaborazione con me abbiamo aperto una nuova linea proprio di emergenza per quanto riguarda le linee di aiuto, perché, vede, i soggetti che devono entrare in contatto con persone che hanno vissuto e stanno vivendo e vivranno un trauma più importante, è importante che siano soggetti preparati e praticati. Grazie al cielo l'Italia sta dimostrando, con le sue associazioni, con tutti gli interventi, una profonda sensibilità ma anche una grande capacità. Io non ho mai visto l'Italia unita in alcuni aspetti proprio per questa emergenza, quindi vedere anche la collaborazione tra enti, istituti, associazioni, realtà territoriali, proprio per poter aiutare i bambini, perché non dimentichiamoci che i bambini purtroppo costituiscono quasi la gran parte dei profughi e quindi il danno è molto più ampio rispetto a quello che noi percepiamo nelle pagine dei giornali, quello proprio di mettere in sicurezza questi bambini il prima possibile. E quindi l'osservatorio anche in questa circostanza è in prima linea, io prima di salutarvi e di concludere vorrei porre l'accento sul modo in cui i profughi stanno nel dolore sul modo in cui si affronta il dolore. Ognuno di noi quando vive una situazione difficile ha un modo diverso di affrontare un problema, una difficoltà. C'è chi sbraita, chi aggredisce, chi scappa, chi, presidente Callipo, pensa al peggio e quindi al suicidio e invece chi affronta il dolore con dignità ed è il caso dei profughi che lasciano l'Ucraina per scappare altrove. Il modo in cui noi stiamo in una situazione complessa dice molto della nostra situazione culturale e sociale, credo, oltre che mentale, presidente Callipo. Assolutamente sì. Teniamo conto anche un'altra cosa, che la realtà territoriale da cui provengono le persone, i profughi ucraini, è una realtà ovviamente diversa dalla nostra, quindi comunque il processo di adattamento, un processo di adattamento diverso è molto più importante perché la realtà in cui loro vivevano è una realtà diversa. Ecco perché creare le condizioni per poter aiutare queste persone significa anche riconoscere e rispettare la loro identità culturale e questo, ritornando alle sue parole iniziali, appartiene, questo qui appartiene proprio a quel senso di dignità che noi dobbiamo tutelare, perché anche un bambino di sei anni, di sette anni, otto anni, ha la sua dignità e noi dobbiamo individuarla e riconoscerla, così come quello delle loro mamme. Mamme che scappano piangendo con questi bambini, cercando tra l'altro di offrire loro quel senso di sicurezza che è necessario, in questo caso significa proprio vivere quel dolore che è difficile cogliere perché spesso viene, nel momento in cui si fanno aiutare, dissimulato. E questo, quel dolore che noi non percepiamo in cui è ora è un dolore molto più profondo di quello che il stesso soggetto lascia intendere. Ecco perché è importante riuscire a cogliere e a rispettare l'identità culturale di queste persone e soprattutto quel senso dignità che è legato anche alla propria identità culturale. Tornerai con Federico Fossi a parlare di un tema legato alla gestione di questo enorme afflusso di persone, tant'è che si sta cominciando a parlare con un termine che forse era desueto, ma che sta tornando prepotentemente di esodo. UNHCR sta facendo tantissimo, però secondo lei come si gestisce quest'esodo? Al meglio considerando il fatto che in questo momento in Ucraina la situazione è drammatica dal punto di vista della gestione degli edifici. A lei? Sì, beh sicuramente c'è un problema umanitario fortissimo all'interno dell'Ucraina, ovviamente con condizioni di sicurezza che come in tutte le situazioni di conflitto rendono molto difficile anche per le organizzazioni umanitarie come UNHCR raggiungere le persone sfollate. All'esterno e quindi nei paesi limitrofi è importante sottolineare come questi paesi abbiano lodevolmente tenuto aperti fin dall'inizio dei confini, facendo transitare i rifugiati e oltre al lavoro organizzativo molto efficace di questi paesi e noi continuiamo a sostenere i governi proprio nel fornire un'assistenza adeguata ed efficace alle persone in fuga. Un altro aspetto da sottolineare è anche, ed è molto importante, il sostegno spontaneo delle comunità locali, dei singoli cittadini, dei volontari, delle organizzazioni, della società civile che hanno, si sono rimboccati le mani, che hanno fatto tantissimo, stanno facendo tantissimo per i rifugiati in fuga dall'Ucraina, aprendo le loro case, condividendo tutto quello che hanno e c'è stato uno sforzo enorme. In questo è importante che questi stati vengano supportati dalla comunità internazionale e che anche gli altri stati coinvolti, perché poi i rifugiati non tutti si fermano nei paesi limitrofi, siamo a oltre 70.000 già arrivati registrati in Italia alle frontiere nel nord-est, ecco, che anche questi altri stati facciano la loro parte, perché come ci insegnano altre crisi, l'Europa tutta insieme può essere efficace se c'è una responsabilità condivisa e ciascuno fa la propria parte. L'altro, il rovescio della medaglia della vicenda è l'accoglienza Federico Fossi, come e dove vengono indirizzati i profughi che arrivano dall'Ucraina? Ma, allora, principalmente fino a questo momento le persone sono prevalentemente ospitate da reti di parenti e amici, familiari, ad esempio per quanto riguarda l'Italia, ecco, noi sappiamo che in Italia c'è una delle più vaste comunità di cittadini ucraini in Europa, circa 230.000 persone, e fino ad oggi quasi tutte le persone arrivate sono state ospitate da parenti, familiari o amici. Ovviamente il flusso di persone in uscita dall'Ucraina che sta rallentando per quanto continui a crescere quotidianamente, dobbiamo prevedere che nei prossimi giorni sarà costituito da persone che magari non hanno questo tipo di supporto e che quindi avranno bisogno anche di un apparato di accoglienza e di servizi efficaci. Tornerei, prima di salutare i nostri ospiti, al Presidente Callipo, perché abbiamo parlato di generazioni in fuga, di aiuto psicologico alla fuga di bambini e donne, però io purtroppo ho visto un'immagine che mi ha straziato il cuore, una persona anziana che con la bandiera dell'Ucraina avvolta sulle spalle in lacrime. Purtroppo gli anziani nella dialettica tendono ad essere spesso dimenticati, non soltanto per quanto riguarda la gestione dei profughi, ma anche in generale, userei dire. Ecco, qual è il miglior modo per sopportare a livello psicologico queste persone che, arrivata in età molto avanzata, si ritrovano senza più nulla? Allora, anche nel caso dei profughi, così come in altri casi, l'età anziana è una grande risorsa, una risorsa molto importante, il che significa che l'aiuto più importante che noi possiamo dare è proprio quello di rendere utili questi profughi, cioè inserirli in un tessuto di normalità, in un tessuto sociale che possa farli sentire attivi e importante. Teniamo conto che l'età anziana è un'età molto particolare, perché vi è una sensibilità molto più accesa rispetto a quello di un adulto, il che significa che tutto viene vissuto, al punto di questo motivo, con maggiore enfasi. Quindi l'importanza di non sentirsi inutili, l'importanza di non essere in grado ormai di far nulla perché la vita è passata, è un fattore su cui dobbiamo assolutamente concentrarci. Quindi è importante creare tutte quelle condizioni in cui l'anziano possa sentirsi utile e in gergo vivo. Beh, è sempre un po' la comunicazione mediatica che accompagna, che dà priorità alle cose. Si pensa che gli anziani, siccome hanno vissuto la loro vita, allora non sono importanti. Invece non è così, si parla solo delle donne, dei bambini, perché hanno un futuro davanti, per la cura, eccetera, eccetera. Invece è necessario, giusto e corretto, parlare anche degli anziani che, nonostante abbiano vissuto il loro tempo, hanno comunque bisogno di aiuto. Stiamo facendo abbastanza, mi sembra. Federico Fossi, stiamo gestendo bene l'emergenza, in conclusione? Sono sempre emergenze complesse e, ripeto, si tratta di un flusso di persone molto veloce. Come dicevo, la crisi che cresce in maniera più rapida in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi per quanto si potesse essere preparati non è semplice. È importante, come dicevo, che ciascun paese europeo faccia la propria parte. Da questo punto di vista credo che sia molto importante il fatto che l'Europa abbia previsto la protezione temporanea per le persone in fuga dall'Ucraina, che quindi ricevano, dal punto di vista anche giuridico, una protezione immediata senza dover transitare attraverso la procedura di esilo e questo sicuramente è un ottimo segno dal punto di vista di compattezza politica dell'Europa e un vantaggio sicuramente per chi appunto già è gravato da tutta una serie di traumi e questo diciamo gli permette sicuramente di formalmente anche di ricevere una protezione che può aiutare a velocizzare un po' tutte le procedure, anche appunto di integrazione laddove non sia previsto il ritorno in Ucraina in tempi rapidi. Grazie a Federico Fossi dell'UNHCR, a risentirci alla prossima, buon lavoro e buona giornata. Grazie a buon lavoro, grazie a voi. E grazie molte al Presidente Stefano Callipo dell'Osservatorio Violenza e Suicidio per aver commentato con noi la condizione psicologica dei profughi in fuga dall'Ucraina. A risentirci presto, congratulazioni per le attività dell'Osservatorio Presidente. Buon lavoro e buona giornata. Grazie Presidente. Grazie, buon lavoro a voi. A risentirci presto. Molto bene, è veramente un ottimo blocco perché, devo dire, quando ti metti veramente in gioco esce veramente una roba di ottima qualità. Veramente, no no, veramente, ci tengo di cuore a dirlo. Proverò a essere all'altezza alle 10.30 perché si parla di letteratura con gli approfondimenti tra i gialli e la fantascienza.